Io mi chiamo Alice e ho 26 anni. Quando ne avevo 18 cominciavo a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nello specifico nel mio settore, ovvero fare cabaret, per cui ho cominciato facendo appunto l'attrice comica e avrei tanto voluto poter portare avanti questa professione. Ho investito tanto nel mio lavoro facendo tanta gavetta, tanti spettacoli gratuiti, ma non solo spettacoli, anche cortometraggi, piccole parti per dei ruoli in tv. Ho studiato, sono andata a vivere da sola contro l'idea dei miei genitori, finché i primi guadagni, quindi le prime possibilità di portare a casa uno stipendio e di pagarsi l'affitto con i proventi del lavoro di attore, cosa che al momento mi sembrava incredibile. Fino a che questo sogno svanisce, nel senso che mi trasferisco a Roma, decido di mettercela proprio tutta e vengono tagliati i fondi per lo spettacolo. Ora, il fatto che io non lavori da qualche mese sicuramente non è dovuto solo ai tagli, naturalmente ci sono anche delle domande che mi devo fare da sola, però se devo immaginare il mio futuro fra dieci anni sicuramente non mi riesco ad immaginare felice e realizzata nel lavoro per il quale ho investito tanto e nel quale ci ha buttato anima e cuore. Quindi per riprendermi avrei bisogno di tutele, di garanzie, avrei bisogno di un sindacato per i lavoratori dello spettacolo, avrei bisogno che la nostra professione fosse riconosciuta, che non si potesse lavorare gratis e che non ci fosse più lavoro nero. Vorrei sentirmi tutelata e avere la possibilità di tornare ad immaginare, a sognare e di continuare a condividere questo disagio e questa condizione con tutte le persone sia che fanno il mio lavoro, sia che si sentono nella mia stessa condizione di precaria, sia professionale che personale. Sono Alice e mi riprendo. Riprendetevi anche voi.